Giacomo, Giacomo ti sono? Sono le 14.22. Vorrei ricordarti che il mio momento più fecondo è da mezzogiorno alle 3. Ma amore, l'abbiamo fatto appena un'ora fa, eh? Non vado mica a comando. Anche Mickey Rourke ogni tanto si ritosa, specie quando l'obbligano a fare i figli. Sì, specie quando dice che passa la notte fuori a giocare a poker con lui. Ancora, ricominciamo. Ricordo ancora il tuo corpo caldo, sensuale, instancabile. Più porca, più zuzza, die così. Bello pizzellone mio. Bello pizzellone mio. Eh sì, vabbè, pizzellone.